Opere pubbliche inaugurate nell'annuale della marcia su Roma ad Addis Abeba. Su altezza reale, il vicere nel quartiere di Tecla Emanot guida il vomere di un aratro indigeno che traccia il perimetro della zona dove sorgerà il centro ospitaliero per indigeni, che sarà fornito di policliniche ed annessi gabinetti scientifici. Dopo aver dato il via ad una nuova grande arteria del piano regolatore di Addis Abeba, l'augusto principe si è recato al diciottesimo chilometro sulla strada di Addis Salem e in località Gerersa ha dato il primo colpo di piccone al primo lotto di lavori per il nuovo grande acquedotto di Addis Abeba che consentirà di soddisfare largamente alle esigenze recenti e future della città. Il principe inaugura la sede del fascio rionale intitolato alla medaglia d'oro Bonsignore. Grazie! 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 Grazie!